Mi piace qui dei posari e dei movimenti raccontare alcune cose quali ho raccolte dalla natura, onde bene intenderemo con che moderazione si debbano usare. Ponsi mente che l'uomo in ogni suo posare sottostatuisca tutto il corpo a sostenere il capo, membro fra gli altri gravissimo, e posandosi in uno piede sempre ferma il piede perpendicolare sotto il capo, quasi come base di una colonna, e quasi sempre di chi stia dritto il viso si porge dove si drizzi il piede. I movimenti del capo veggo quasi sempre a essere tale che sotto a sé hanno qualche parte del corpo a sostenerlo, tanto è grande peso quello del capo. Ovvero, certo in contraria parte, quasi come stile d'una bilancia, distende uno membro quale corrisponda al peso del capo. E veggiamo che chi sul braccio disteso sostiene uno peso, fermando il piede quasi come ago di bilancia, tutta l'altra parte del corpo si contraponga a contropesare il peso. Parmi ancora che alzando il capo, né uno più porga la faccia in alto, se non quanto vegga in mezzo al cielo, né in lato alcuno più si volge il viso, se non quanto il mento tocchi la spalla. E in quella parte del corpo, ove ti cigni, quasi mai tanto ti torci, che la punta della spalla sia perpendicolare sopra il bellico. I movimenti delle gambe e delle brazza sono molto liberi, ma non vorrei io coprissero alcuna degna e onesta parte del corpo. E veggo dalla natura, quasi mai, le mani levarsi sopra il capo, né le gomita sopra la spalla, né sopra il ginocchio e il piede, né, tra uno a piede e un altro, essere più spazio che l'uno solo piede. E così mente distendendo in alto una mano, che persino al piede tutta quella parte del corpo la sussegua tale che il calcagno medesimo del piede si leva dal pavimento.